Quindi personalmente non avevo relazioni approfondite con i talent di Rai 1 e quindi arrivo a Rai 1 avendo fatto un apprendistato davvero tecnico e televisivo. Io trovo che sia una bestemmia che Antonella Clerici non sia presente sul Rai 1 da un po' di tempo perché la ritengo una donna non solo legata a un registro ludico come l'abbiamo vista nella sua evoluzione, ma è una donna autorevole. Io credo che Rai 1 debba tornare nei volti, nelle conduzioni, nei riferimenti delle persone che guardano l'ammiraglia, ognuno nel suo genere, debba tornare davvero a un codice di autorevolezza. Antonella Clerici è ludica, ma è una donna coraggiosa, autentica, che non ha mai creato dei filtri con i telespettatori. Allora dicevo, per me Antonella sarà un asset dell'ammiraglia, anche se ci siamo parlati molto velocemente. Sono lacrime di gioia e anche di riconoscenza perché per me è stato veramente un anno complicato, quindi l'essere qua e sentire le tue parole e sentirmi circondata da questo affetto, vi devo dire la verità, ne avevo un po' bisogno, scusate. Grazie. 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 Grazie.